Sono più di 10 le persone nel primo giorno di lavoro per i 5 volontari della cooperativa Etnos che hanno usufruito del servizio di consegna a domicilio, attivato per dare un sostegno ad anziani soli e a chi non può uscire da casa, soprattutto con le ultime restrizioni del decreto ministeriale per il coronavirus. A partire da oggi il gesto di solidarietà è stato incrementato dall'aiuto di altri 7 collaboratori. Il servizio prevede la consegna a domicilio di spese e farmaci per persone in difficoltà. Non vi lasciamo soli, è lo slogan del progetto solidale con il patrocino gratuito delle comune di Caltanissetta che ha aperto anche una pagina Facebook dove è possibile trovare tutte le informazioni. Inserite anche le foto degli autisti incaricati per permettere di identificarli e i documenti di identità sono stati trasmessi al comune. Saranno inoltre muniti di un tesserino di riconoscimento. Per reprogrammare il servizio totalmente gratuito sono a disposizione i recapiti della sede della cooperativa Etnos 0934 59 13 13 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. La coordinatrice del servizio che risponderà provvederà a richiamare telefonicamente per garantire la certezza del servizio e nominerà il volontario che alla consegna del denaro rilascerà una ricevuta con l'importo. Successivamente alla consegna della spesa consegnerà anche lo scontrino e il resto. Il sabato e la domenica si procederà a regime ridotto. Anche San Cataldo si sta muovendo in questa direzione grazie al grafico Claudio Lipari che ha messo a disposizione la propria professionalità attivando un gruppo Facebook San Cataldo resta casa e il nome costantemente aggiornato per segnalare i contatti degli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa e che effettuano consegne a domicilio. Già più di 300 i cittadini iscritti alla pagina. Nella locandina anche il numero del comando dei vigili urbani. Tutte le farmacie di San Cataldo effettuano il servizio telefonando al numero verde 800 065 510.